Buonasera a tutti per una nuova re-picture dal Trend Studio per il progetto Models & Painting Photo Studio. Vedete inquadrata la splendida opera dell'artista scrittrice Sara Saieva che non è qui con noi ma che è rappresentata degnamente anche cromaticamente con un vestito che si accorda completamente all'opera dalla bellissima nuova modella per il nostro team artessa Elisa Bassani. Grazie Elisa di essere con noi, grazie a te e questa è l'opera, voi conoscete Sara perché noi l'abbiamo presentata, abbiamo presentato le sue due ultime opere letterarie anche alla quinta edizione della Fashion Art a settembre e poi addirittura fin dall'inizio dagli albori del team artessa ma Sara oltre a essere un'ottima scrittrice di successo è anche sia una pittrice sia una restauratrice molto conosciuta nelle zone del Lazio, dell'Umbria dove lei risiede e sono veramente contento di averla qui, seguitela sui social quindi non solo come scrittrice ma anche come artista con questa splendida opera lei è sempre molto originale cerca di andare molto oltre e di dare anche un significato oltre alla parte prettamente cromatica che poi è quella che la distingue e che si come dice sempre il professor Vittorio Raschetti che è un po' il suo critico di riferimento oltre che nostro collaboratore nel team artessa ogni volta Sara non smette mai di stupirci quindi tanti complimenti a Sara Saieva questa è solo una piccola opera ne vedremo altre nelle prossime repiccio di questa grande artista e felicissimo di dare il benvenuto nel team artessa alla bella Elisa Bassani. Grazie